mercoledì 23 febbraio 2022 istruzioni composizione del luogo e medesimazione la composizione del luogo e l'immedesimazione in un personaggio sono i passaggi del metodo che ci permettono di vedere di materializzare il brano evangelico di contemplare e porre le domande riguardo a quello che succede di essere presenti quando maria riceve l'annuncio dell'angelo visita elisabetta dalla luce bambino e poi quando gesù riceve il battesimo al giordano guarisce annuncia il regno di dio insegna perdona compie miracoli cammina lungo i sentieri della galilea la composizione del luogo e l'immedesimazione in un personaggio sono due passaggi del metodo strettamente collegati questa sequenza ha lo scopo di permetterci di entrare nel mistero dell'incarnazione come testimoni diretti noi in prima persona anziché seguendo l'eco di dottrine che spesso abbiamo difficoltà a fare pienamente nostre l'approfondimento e lo studio della dottrina saranno poi molto fecondi proprio perché resi vivi dalla nostra esperienza di preghiera di gesù in preghiera dedicare la prima parte della contemplazione del brano evangelico alla composizione del luogo ci conduce quindi a onorare il mistero dell'incarnazione rendendolo presente nella nostra vita quando costruisco con l'immaginazione lo spazio fisico nel quale il racconto evangelico è situato preparo il terreno affinché gesù possa raggiungermi comunicare con me più facilmente non solo durante quella preghiera ma in ogni momento della mia vita e quanto più saprò preparare la scena inserendovi poi molti particolari fisici tanto più il racconto evangelico diventerà un luogo ospitale verso lo spirito di gesù che desidera incontrare la mia realtà incarnata di discepolo di discepola di apostolo di apostolo nell'avviare la composizione del luogo mi lascio guidare da una parola del brano un riferimento temporale paesaggio ad esempio nel caso del battesimo di gesù l'acqua del fiume il cielo poi la scena prende corpo e colore grazie a un mio ricordo della terra santa piuttosto che il ricordo di un altro luogo che conosco dopo e solo dopo che il luogo e il tempo del racconto saranno precisati agli occhi della mia mente la scena si popolerà gesù discepoli il battista le persone della folla in un certo senso quando la composizione del luogo è completata il personaggio in cui medesimarci e proseguire la contemplazione di quel mistero della vita di gesù si presenta a noi autonomamente a volte capita di entrare in uno dei personaggi citati nel brano altre volte invece in un personaggio che verossibilmente rappresente ma di cui l'evangelista non parla un parente o una parente di gesù un pastore una contadina un fanciullo immedesimarsi in un fanciullo in un ragazzino una ragazzina ci consente più facilmente di lasciarci sorprendere di guardare con meraviglia e con occhi aperti quello che accade nel racconto se non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli dice gesù al capitolo 18 del vangelo di matteo soprattutto all'inizio immedesimarci in qualcuno che non è protagonista della scena aiuta ad avvicinarci con più coraggio gesù per poter ascoltare le sue parole notare il suo tono di voce vedere i suoi gesti le sue azioni al fine di conoscerlo intimamente sentirci intimamente profondamente riconosciuti da lui come nella composizione del luogo precisare qualche tratto della storia della persona in cui immedesimo calarmi nei suoi sentimenti nelle sue aspettative mi apre ancora di più la possibilità di osservare ascoltare gustare toccare e venire toccato da quello che accade nella scena in altre parole possiamo dire che immedesimarsi in un personaggio e adottare il suo punto di vista è simile a ricevere in dono un avatar anche se quella persona non sono io oggi qui sono pur sempre i miei sensi e il mio stesso sentire ad avere accesso all'evento accaduto nella galilea del primo secolo di cui parla l'evangelista l'avatar che mi viene donato di incarnare con l'immaginazione mi porta molto vicino a gesù tanto da consentire a gesù di rivelarmi aspetti della mia identità presente che forse ancora non conoscevo per amarlo e servirlo al meglio di me stesso di me stessa come recita la richiesta di grazia suggerita da sant'ignazio che inaugura il tempo di preghiera